Spinta dalla maggioranza la mozione di censura all'assessore ai parchi William Casoni al termine della seduta del Consiglio regionale del 15 febbraio. La sessione straordinaria dell'Assemblea era stata chiesa dai consiglieri del Partito Democratico per discutere delle modalità di nomina dei presidenti e dei commissari dei parchi e delle aree protette avvenute nel dicembre scorso.